3 minuti e si parte! Eccovi! Abbiamo il via libera, Warzone vi aspetta! Prendete le vostre cose, 3 minuti al decollo! Fuoco autorizzato sogni minacce! Fate attenzione lassù! Andiamoci a fare! Sei il capo squadra e indica un punto di lancio per la squadra! Mi piace! Il GAPS si sta avvicinando! Meglio togliersi di... Cazzo! 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 Gassi in movimento Prima cassa di scorte presa Ne restano due La squadra ha raggiunto la zona sicura Non è che cosa vuoi? Attenzione operatori nemici in cerca di materiale nucleare esplosivo nell'aria Buona Senti Due cassa di scorte in sicurezza Ancora una Carca di corasse marcata Qui abbiamo una cassa di protezioni Sistema raspero Tratto riuscito Che bella starla Guarda 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 ti avverto che degli operatori nemici hanno preso un componente che sia l'unico andiamo ad avanzare in più centrale andiamo qua andiamo qua questo palazzo è qui anzi vuoi cercare quello che c'è qua no comprati la presa in occhio piccola cazzo di scorte inovitolato procedete a recuperare cazzo di scorte presa ne rimangono due lancio di equipaggiamento e la nostra zanzara è online gas in arrivo c'è una nuova zona sicura due cazze di scorte recuperate ne retta una si gli operatori nemici hanno messo le mani su un altro componente non devono completare l'esplosivo questo è per favore e compriamolo lì non lo tiro io ah no quindi è qua cazzo niente ragazzi andiamo a shine o meglio subito lì a suo punto qui ci sono dei soldi perchè li ricordi verano lì adesso c'è l'elicotto ma possiamo abbattare anche noi? o no? questo è odio non credo eh oh arriva va come arriva veloce quello va come arriva veloce quello la c'è che questi sono bravi qui è una cagata ok piccio ma mamma vedete che si è buttato da voi si è buttato da voi si è buttato da voi oh è qui 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 si sparano dai c'è ma dai c'è cos'è atternato 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 piccio ma porca puttana di merda piccio è finito è finito ah merda io cadevo io cadevo ma che stanno così interrompendo qui? non c'è nessun partito ah non c'è nessun partito 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 ma la Nora è impossibile no 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 qua si cittano si si cittano cittano se sopravvive tornerai in azione spin un suo compagno è finito nel gulag dovrà battersi per tornare in campo rinvare le munizion non c'è nessun cortino anche il cheit che azienda un po' che ti amo se li aspegono è città normale non possiamo fare no città eh ma quello che mi ha fatto a me vuoi vedere come mi mirava ma tu è la mamma puttana nel modo assurdo il tuo compagno è stato battuto e sta tornando alla base guarda capa la minchia troia guarda quante persone sono rimaste in partita 9 10 capisci che citano tutti citano tutti ho detto io che citano ma vai ma vai citano dopo adesso quando moriamo vedrai quanti che l'hanno fatto quelli guarda faccia salvare a tutte qua guardi se si guarda ma va è troppo grande non ci pio nessuno policetto ci vuoi alloggi abbiamo 12 mincati ci manca pochissime inca ma c'è l'ho lotto qua andamocela a prendere prendi sto prendiamoci prendiamoci sto cosa veloce prendiamoci il pallone prendiamoci il pallone veloce la voglio vincere così a muzzo questa partita l'ho preso no non è vero c'è anche uno senza mi lascia sempre più vicino prendi questo i cerchini io posso farlo portati la tua squadra è nella zona sicura prendi questo i cerchini voglio cerchino qua dove siamo morti prima non è vero c'è anche persa poi c'è ancora una stesina poi c'è ancora una stesina raga facciamo così aspetta tira questo stazione di acquisto in arrivo fai te a munizionare la cittadina minaccia nucleare marcata massima priorità di nessuno comparte raga io compro bombardamento comparte una via stazione di acquisto mobile pronta lasci i soldi vai comparte una via raga con due sono tutti con buona munizionare che è qui andiamo 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 3 3 contro 3 no 4 contro 3 no 4 contro 2 2 raga son due loro eh non è vero non è vero siamo 4 contro 3 possiamo vincere noi eh beh un attimo devo ancora arrivare là vabbè sono vabbè sono vabbè sono vabbè 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 la loro e c'è te ne cecchina uno la butta a terra e mi cecchina un altro che è che sono secondo me eccolo la ma se ci sei così come fai? se ti dico schiappero lì esarma quella bomba in tempo stringe chi li mette? Alex ma non t'avevano no no comunque a terra non sono l'arma niente sono cittano raga guarda cittano eh che cazzo eccoci eccoci